Grazie a tutti, è un grande piacere di essere qui con molti amici, quindi grazie a Daniele per organizzare questa conferenza, grazie all'honorabile Picchi per organizzare, e grazie ovviamente all'ungariano amico del MCC, Rodrigo, e all'unitario amico Timoteo, anche all'honorabile Centemero, e grazie a Marton per la tua introduzione, e grazie a tutti, è un piacere di vedere te ancora, ambassadore, e è un piacere di essere qui come un italiano che ha spento tre mesi in Hungary, in MCC, da May al Augusto, ero in MCC, come Rodrigo ha conosciuto, e in questi tre mesi ho capito la situazione in Hungary, e anche ho capito che, a volte, ciò che pensiamo, non solo in Hungary, ma in Europa centrale, più che in Europa, qui in Italia e qui in Europa, non è vero. e a volte, in una nuova, in un magasino, in una televisione, abbiamo ascoltato molte cose su vostre country, che sono totalmente non lipposti con la realtà della situazione in Hungary. e la stessa cosa possiamo dire in Polonia, io ero con Timoteo molte volte in Polonia, in Warsaw, e noi organizavamo una conferenza con Ordo Iuris e Collegium Intermarium, e quello che è interessante è che quello che arriva in Italia è totalmente linked a una visione dell'Ungariano e della situazione che è una visione che è una visione che è un modo di raccogliere di parlare delle informazioni. E penso che questo è anche un punto di vista ideologico, soprattutto nel concetto del ruolo. Ciò che sta succedendo nei ultimi mesi, non voglio dire mesi, ma nei ultimi anni, è che il concetto che è un concetto tecnico, il ruolo è un concetto che è un concetto politico. Quindi ogni giorno che leggiamo qualcosa di raccogliere il concetto del ruolo del luogo, ci stiamo domandando cosa è diventata il ruolo del luogo. E quando, a volte, la Unione Europea parla del rispetto del ruolo del luogo in un paese centrale europeo, specialmente in Hungary e in Polonia, i criteri sono completamente diversi dal rispetto del ruolo del luogo in un paese europeo. Abbiamo già discutito il concetto di Germania, ma possiamo anche parlare del nostro paese. E il quattro issue che voglio underlineare è che l'importanza del ruolo del luogo è legato al concetto di sovranità. Quando parliamo del concetto del ruolo del luogo, dobbiamo parlare del concetto di sovranità. Il concetto di sovranità è totalmente legato al stato nazionale. Quando parliamo di votare, votiamo per il membro del parliamento e per il parliamento nazionale. Ma, allo stesso tempo, votiamo per il parliamento europeo, ma non votiamo per la commissione europea che, come voi sapete, non è votato direttamente dai cittadini. E il più importante modo di rispondere l'unico luogo delle persone è di rispondere la Costituzione. E come voi sapete che la Unione europea non ha una Costituzione? Abbiamo alcune Costituzioni nazionali, ma non abbiamo alcune Costituzioni europee. Abbiamo alcune Costituzioni europee, ma una Costituzione è abbastanza diversa da la Costituzione. Quindi credo che ogni giorno abbiamo bisogno di rispondere l'unico luogo della Costituzione. Ma quello che sta succedendo in ultimi anni, è che la Costituzione non è rispondere in un modo europeo e non è rispondere anche in un modo nazionale. A volte non è rispondere l'importanza della Costituzione. E quando parliamo del luogo luogo, dobbiamo ricordare anche che a volte il luogo luogo è diventato un concepto totalmente liato ad un'ideologia. Il luogo luogo è diventato qualcosa che non è rispondere, secondo la Unione europea, quando, per esempio, un paese nazionale o dove, per esempio, il Parlamento nazionale approvano alcuni luoghi che sono linkati con la visione cristiana della società. Quando il Parlamento nazionale approvano alcuni luoghi che sono linkati con la visione cristiana, alcuni luoghi che sono in favore della famiglia, che sono in favore della visione cristiana della società, la Unione europea dice che questo non rispettano la regla. Il concepto della regla del luogo 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 e la potenza della europea, linked con la potenza del Parlamento nazionale, è un topic che è un po' importante per il futuro di Europa. Come dicevi prima, abbiamo lasciato la conferenza del futuro di Europa. La conferenza del futuro di Europa termina in prossimo anno. In Italia abbiamo una comitazione scientifica, un governo è parte di questo scientifica. In questo momento, stiamo lavorando su alcune idee che sono collegate con la visione del nostro paese per il futuro dell'Europa. Ma credo che ci sono tre principali topiche che abbiamo bisogno di prendere in mente quando parliamo del futuro dell'Europa. Il primo è il problema dell'immigrazione illegale, il problema dell'immigrazione. Il problema dell'immigrazione non è solo un problema nazionale. Abbiamo visto in le ultime settimane cosa sta succedendo in Polonia. Vediamo ogni giorno ciò che sta succedendo nel sud dell'Italia, in Lampedusa, per esempio. Ma possiamo parlare anche di Spagna, ciò che sta succedendo in Ceuta e Melilla. E lo stesso è stato fatto nel 2015 in Hungary, con le so-called balkanze rute, che ogni giorno arrivano molte migranti illegali. E abbiamo bisogno di underlinare che c'è una distinzione tra i migranti regolari, che arrivano in un modo regolare in un paese, che rispettano la legge del paese e in un modo regolare. E in un modo regolare, ciò che ci sono i migranti illegali. E il problema dei migranti illegali è il problema che è un problema con l'Unione Europea. Quindi l'Unione Europea deve aiutare tutti i stati nazionali a questo tema. Il secondo importante è l'ambiente. L'ambiente è il tema del futuro. C'è l'ambiente che non mi piace questa visione, ma l'ambiente è un tema molto importante. E perché l'ambiente è anche lontato con la potenza dell'Unione Europea? Perché ora stiamo vivendo in una situazione dove l'Unione Europea vuole dire al Stato nazionale che hanno dovuto fare all'ambiente con l'ambiente. Ma è un'ideologica vista dell'ambiente che non parla di la visione delle persone nazionali, che non parla di la visione dell'entrepreneurale. A volte l'Unione Europea parla di l'importanza dell'ambiente, ma non parla di come creare nuovi jobi all'ambiente con l'ambiente. e non parla di come molti jobi, per quanto riguarda la transizione verde, che stiamo perdendo. Quindi quando parliamo dell'ambiente, dobbiamo ricordare anche l'identità di ogni paese. Dobbiamo ricordare la tradizione di ogni paese. E il terzo punto, e credo che Angra e anche Polo hanno fatto un grande lavoro su questo, è il linko alla nuova generazione. È il linko alla educazione. La educazione è il tema del futuro. E a volte, ciò che chiediamo in nostro paese, soprattutto come persone conservativi, è l'importanza di alcune entità, come per esempio la MCC, che facendo un lavoro forte in Angra, e parla di una nuova generazione, e parla di un'importanza di alcuni valori. Infatti, in nostro paese non abbiamo alcune istituzione come la MCC, che parla con la nuova generazione. perché il problema è che se non ci spieghiamo alla nuova generazione, come è importante underlinezare il concetto della sovranità, e come è importante underlinezare la identità nazionale, ci saranno perdere una battaglia, non voglio dire una guerra, ma ci saranno perdere una battaglia tra una visione dell'Europa che è collegata con i stati nazionali. Perché questo è il punto. Il punto è che nessuno è contro il concetto della idea dell'Unione Europea. Nessuno qui, credo, dice che devono uscire dall'Unione Europea. Ma tutti qui dice che devono cambiare l'Unione Europea. Devono pensare un'unione differente. che rispettano il comportamento delle persone che rispettano il comportamento delle persone. C'è l'unità di oggi che, a volte, le Hungarie o le Polizze vengono a votare. Vengono per un governo. E si decide di votare per un governo. Questa è la democrazia. E a volte qualcuno, da Bruxelles o altri paesi, dicono che non vogliamo questo governo. Quindi, ogni giorno, dobbiamo attaccare questo governo. Ogni giorno, dobbiamo attaccare non solo un governo come un'instituzione, ma attacchiamo il comportamento delle persone. Quindi, a volte, attacchiamo l'idea delle persone che votano per questo governo. Quindi, il futuro dell'Europa deve essere, in mio opinione, e non lo so se Daniele e gli altri ragazzi con me, è un'Europa che è legato al concetto della nazione. È un'Europa che è un'Europa. È un'Europa dove ogni nazione ha il potere. e dove l'Unione europea rispetto anche la visione di ogni nazione. Grazie.